Go! Paul Position! Paul! Paul Position! Per Charles Leclerc con dei capelli orrendi! Paul Position per Charles Leclerc! 1-2 alla partenza! 1-2 alla partenza! Mamma mia, ho sbagliato il primo settore! Verstappen e ha rovinato tutto il suo giro! 1-2 Pista Red Bull! Pista Red Bull e attenzione! Allora, io non capisco, onestamente, il perché della Pista Red Bull. Perché tutti dicono, Pista Red Bull, questa è in Miami, è una pista, ragazzi, particolare, molto particolare. È stranissima, onestamente, non so se mi piace o se mi faccia proprio schifo, peggio di, non lo so, J-Dub, Dabi. Quindi, ma è particolare, cioè, per fortuna che hanno tolto i cordoli dalla chicane dell'entrata ai box. Cioè, tu entri ai box e prima di entrare ai box devi fare una chicane. C'hanno anche i cordoli! Che circuito è merda! Poi, non lo so, ragazzi, questi americani ogni volta, un'altra americana, fuori allo stadio di football, gli altri, fuori al casino, tutte cose a cazzo, ragazzi, lo sappiamo ormai. Ma comunque, 1-2 Ferrari! 1-2 Ferrari! In qualifica! E 1-2! 1-2! Ragazzi, partiremo primi e secondi, domani. Prima fila tutta rossa in qualifica non era mai successo perché In Bahrain era successo con primo Charles, secondo Verstappen e terzo Sainz. A Jedda, primo Perez, secondo Charles e terzo Sainz. Mentre invece Melbourne, primo Charles, secondo Verstappen e terzo Perez, può essere. Ma forse anche terzo Norris qua. A Imola, invece, Verstappen e Charles Perez. Ma invece, 1-2 Ferrari! Dopo che aveva fatto il primo giro, ragazzi, a storia, sotto l'1,29, Max Verstappen, la Ferrari ribadisce la prova di forza. Io non capisco se è pista Red Bull o pista Ferrari. Perché la Ferrari è più forte di Red Bull in curva. E però c'è quel rettilineo. Quel rettilineo, ragazzi, cioè, la Red Bull va veramente forte. 3-34, 3-35, 3-36. È veramente fortissimo. E quindi, non lo so, ragazzi. Perché poi ho visto una Mercedes abbastanza competitiva. Errore in strategia clamoroso con George Russell. Eliminato in Q2. Partirà l'odicesimo. Partirà ultimo Esteban Ocondo, può essere andato a muro subito inizio FP3. Diciannovesimo Latificio, ottesimo album. Diciassettesimo, questa non me la ricordo, forse One New Joe. Sedicesimo Kevin Magnussen. Quindicesimo Mick Schmacher. Quattordicesimo, quattordicesimo, ragazzi, Daniel Ricciardo. Tredicesimo, onestamente non me lo ricordo, Sebastian Vettel. dodicesimo ci sarà George Russell. Undicesimo Alonso, decimo. Forse Pierre Gasly, ottavo, nono, forse Zunoda. Può essere ottavo Norris, settimo Lewis. Non sono certo, eh. Comunque Bottas. Bottas, ragazzi, quinto. Può essere, aver rischiato di essere eliminato se in Q2. Uno che in Q2. Ragazzi, comunque, è pole position domani. Per domani è pole position. Pole position! Per Charles Leclerc e Sainz. Bene, spero, ragazzi, che Sainz, dopo il momento bruttissimo che ha attraversato, riesca a riprendersi perché... Errori in qualifica in Australia, errori in gara, esci zero. Mentre invece qualifica, ha errori in qualifica per Lea Sbigni. Parti 10, non è la sprint, ti rifai. Parti quarto, incidente per forse aver usato troppo su Daniel Ricciardo. Qua invece parte il weekend molto male perché vai a muro nell'FP2, per fortuna non in FP3. Quindi, se avessi fatto in FP3, ragazzi, non mi verreste così felice. Perché, ovviamente, FP3 e FP2 cambiano. Perché una è di sera, una è di sabato e una è di venerdì. Cambia assolutamente. Ma quello che conta era la pole position. La pole position ce la siamo portati a casa? Sì. L'1-2, primo 1-2 in qualifica stagionale, ce lo siamo portati a casa. Sì. Adesso, beh, rimane solo una cosa. Vedere uno tra Leclerc e Sainz vincere è fare magari la doppietta o quantomeno arrivare entrambi a podio. Che sarebbe ottimo nel campionato costruttoria, non solo. Perché io, ragazzi, non vi nego che prima e a qualifica mi sembrava, ragazzi, un'altra di quelle gare che tanti hanno definito in cui ti devi accontentare nel terzo posto. Ci ricordiamo Leclerc, ha usato troppo in gara, ti potevi accontentare nel terzo posto e non ti sei accontentato. Infatti io ho subito previsioni. Verstappenperez Leclerc con Sainz fuori al podio. Non lo so, io spero di sbagliarmi in questo caso. Comunque Leclerc, ragazzi, che deve cercare di riportare la Ferrari a podio, purtroppo è andata male a Imola perché non siamo neanche... Neanche Sainz è arrivato a podio, tanto non si è anche ritirato. Leclerc non si è saputo accontentare e ha fatto un po' una cazzata. Non ne vediamo, ci ha fatto una cazzata, ma adesso... Circuito brutto di Miami, perché oggettivamente è un circuito brutto. Le prime... Quella, ragazzi, destra-sinistra-destra o destra-sinistra, destra-sinistra-destra, sì. È l'unico punto che mi piace. Per il resto lo vedo anche in un circuito molto, ragazzi, noioso, che potrebbe non regalarci sorpassi. Tante sbinnate, nessuno ha sbinnato in questa qualifica, non me lo aspettavo onestamente. Mi aspettavo soprattutto in quei due cordoli, ragazzi, perché sono veramente pazzi. Mi ricorda nel 2010, perché la cambiavamo praticamente ogni anno, curva 8, 9, 10. Mi sembra che fosse quella di Singapore, in cui tu letteralmente dovevi salterrare, fare un minimo di saltello con la macchina perché dovevi per forza passare sopra il cordolo. Ovviamente sto parlando del Singapore Circuit. Mi ha ricordato molto quello. Comunque io, signori, vi saluto. Ball position, forza. Grazie. Grazie.